Una cosa è sicura, abbiamo bisogno di radici nel territorio, dobbiamo essere radicati nel nostro territorio, nel paesaggio, nel turismo, nelle montagne. E ora seguitemi nel parco dell'innovazione. Potete vedere che quando perviene altissima richiesta o un progetto da un'impresa ci sono dei professionisti in grado di analizzarlo, di capire di che cosa si tratta e che possono subito mettere a disposizione un esperto in materia. Da queste richieste abbiamo imparato che dobbiamo seguire, sviluppare l'idea nel suo percorso verso il prodotto. Qui siamo nel laboratorio delle idee. Ci sono dei fisici che aiutano a sviluppare un prodotto nell'ambito dei materiali e della simulazione. E abbiamo imparato molto dall'incubatore di imprese. Abbiamo giovani imprenditori che debbono andare sul mercato con nuove idee e prodotti innovativi. E proprio queste persone hanno a loro volta bisogno degli specialisti materiali e di simulazioni. È tutto collegato. Questi sono i servizi centrali che forniamo qui al TIS. E adesso vediamo di addentrarci nel fianco laterale. Che ci troviamo? Tecnologie alpine con i cluster legno, edilizia e tecnologie per lo sport invernale. Un ambito importante e bello dove possiamo unire le piccole aziende, consentendo loro di essere più forti, di sviluppare sinergie e di creare un'intera zona cistica. Un secondo settore qui da noi al TIS riguarda alimentari e benessere. Un ambito anche questo assai giovane. Ma qui si tratta di dare sostegno alle piccole imprese, alle aziende artigianali nel campo delle tecnologie alimentari. Abbiamo i tecnici adatti, abbiamo la consulenza e da lì si parte, lì si dà aiuto. Diamo sostegno a progetti collettivi. Si mettono insieme imprenditori. A questo proposito mi viene ora in mente Arntal Nature. Qui ci sono i contadini che forniscono i prodotti agroalimentari, un cuoco che compone il paniere, una società commerciale che fornisce i prodotti alla gastronomia e ai catering. E ora spostiamoci al terzo settore, energia e ambiente, una tematica importante. E anche qua abbiamo ingegneri e ricercatori perché redigiamo studi di fattibilità. Abbiamo però anche questo marketing territoriale. Dappertutto dove siamo forti dobbiamo anche diventare visibili. Nel solo anno in corso la NRT ha portato più di mille visitatori agli impianti d'eccellenza dell'Alto Adige, impianti già installati e in esercizio per mostrare loro come funzionano. E questo è marketing al 100%. Lì ci viene chiesto chi li ha progettati, chi li ha costruiti questi impianti e naturalmente diamo adeguata risposta a queste domande. Abbiamo poi il quarto settore indispensabile per ogni regione, quello delle tecnologie digitali. E se oggi guardiamo a quello che si potrà fare in futuro, ad esempio grazie alla tv digitale, vedere sullo schermo del televisore internet, spedire email eccetera, e questo è solo una parte di quello che fa il settore tecnologie digitali. Lì abbiamo perfino laboratori tecnici dove si cerca di effettuare test in merito, ma anche il software libero. Come incubatori d'impresa siamo anche accompagnati da aziende che desiderano lanciare i propri prodotti tramite software libero. Così si articola il TIS Innovation Park. Facciamo incontrare le persone, le mettiamo in reciproco rapporto. Ma qual è riassunta in tre parole la funzione del TIS? Ideazione, consulenza e realizzazione. Il TIS vi ha convinto? Molte grazie.